Quelle che sembravano solo supposizioni e che vi avevamo anticipato qui, ora sono diventate certezze, il cantante e attore statunitense ha ufficialmente annunciato la data di uscita del suo nuovo album intitolato Man of the Woods, prevista per il prossimo 2 febbraio.Ecco la copertina del nuovo album, Man of the Woods segnerà il ritorno alle scene discografiche di Timberlake dai tempi di 2020 e Xperinece 1 e 2, usciti entrambi nel 2013. Il prossimo 4 febbraio Justin Timberlake sarà protagonista della performance musicale dell'Alftime Show durante il Super Bowl 2018, dopo che vi si era esibito l'ultima volta nel lontano 2004.